Non è una brutta sconfitta, è una buonissima prestazione della squadra, sono molto contento, abbiamo fatto un'ora all'altezza di loro più che bella. Peccato aver preso il gol forse nel nostro momento migliore e poi è chiaro, l'errore è stato regalare un uomo a una squadra così forte, perché se no chi lo sa che fino alla fine della gara non si fosse stati in competizione. Ho fatto una buonissima gara, una buonissima, buonissima, buonissima gara contro una squadra veramente forte, forte, forte che lotterà il campionato con altissime probabilità di vincerlo, che devo recriminare. Con Stato e con squadre forti come con la Carrarese la seconda giornata e oggi regaliamo un uomo a mezz'ora più o meno sempre dalla fine con il risultato umbilico. Sono errori, purtroppo, che ci penalizzano. Oggi sicuramente ci hanno impetito di stare in gara fino alla fine. Forse è questo l'unico, l'errore brutto grosso di oggi, perché per il resto la squadra ha fatto una grossa grossa gara.